Ora, mentre tu dormi, sempre più profondamente, i tuoi occhi vedono il quadrante di un grande orologio. È un quadrante bianco, con delle grandi lancette nere. Ora, le lancette di questo orologio cominciano a fuorarsi all'indieta. Il tempo per tempo comincia a sfogliare indieta, indieta dal freddo, sempre più indietro, tu ritorni indietro nel cielo, ritorni indietro nel giro, ritorni sempre più indietro. all'estrabe all'estrabe Siamo in mercoledì, è una notte interna, tu sempre stai facendo il tuo lavoro di percustazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.